secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie full molto bene sei impulso sono comunque god e di qua riapriamo al volo e accendiamo al volo il falò e siamo pronti ad andare ciao d'antos ciao panisher loro 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 lo loro è dei nostri ciao d'antosos benvenuzios buongiorno jade ferra ciao bello grazie non è un scherzo ecco oddio non è tutto ci vanno fuori perché traia no ma il mio cos'è il blu tornato ragazzi ragione dopo in open dobbiamo per aclip comunque intanto cerco qualcosa sicuramente sul forno e punch gg li trovi non è andato a mettonazzo ci siamo raga ci siamo un secondo raga un secondo è volato giù è volato giù il telefono a mettonazzo ci siamo che c'ho la targa ci avete incontrato verso di voi? no su di lei allora facciamo una cosa mettiamo questo raga allora che va messo così questo è per portarvi le live sulle giostre però non ci devo incastrare i capelli dentro allora lo mettiamo così sulle giostre però non ci devo incastrare i capelli dentro allora lo mettiamo così perfetto il più alto possibile verso di qua come si sente? che non mi passa il sangue al braccio però aspetta un momento e allora ha bevuto forte ha bevuto forte la congestione cosa si sente? un momento raga si vuole sedere? no no andiamo ai tronchi andiamo dove dobbiamo andare ok a posto passato ma perché bevi forte? che forse hai lo fio? passato ma questo non l'abbiamo fatto perché non l'abbiamo fatto quale? passato questo dobbiamo andare in fatti questo è solo 25 anni ci saranno allora dove dobbiamo fare? una bella acquata fresca molto arriva un acquato sicuramente esatto no dai porca troia guarda questo è un'occasione che ha fatto non è mai rivedo io questa carina e tu no sì sì io la bagno no l'amo d'accordo Alex? ho sempre reputato di essere onesto con con vogliamo abbiamo un po' il mammut è corsante appena da pari quello che abbiamo fatto al primo ma che il mammut è sottovalutato vero 200 sabbets io mi comprei quella macchina no aspetti questo è un annuncio che io non non è assolutamente ok cominciamo a usare saltafila vai guarda non me la prende c'è due e ce ne hai te io non so cosa voglia da me nessuno guardi per forza dai perché devono sempre grattare figa perché devono grattare qualsiasi cosa ora che è bello vai te la vede favori niente nooo è cascato ti prego dammi la season 2 no nettuno ma chi ti salutano ciao grazie ciao 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 non puoi portarvi a puttane non si può non si può non è libero no andiamo andiamo io vorrei quella foto lì con le sue girate qual era però mi passiamo di vai lo facciamo è il tronco dell'acqua ciao ciao c'è quello che vuoi eh però devi spararvi la cura beh c'ha è forza è stata fila l'abbiamo usata perché lì c'erano c'erano sette anni ha messo i piedi ci siamo lettuno ci siamo oh non ci si può muovere da qua ehi nettuno no cazzo non mi devi bagnare non mi devi bagnare non mi la bagno nettuno perché mi devi bagnare nettuno bastardo dove cazzo bastardo di un nettuno bastardo bastardo ma perché stai bagnando l'azione ma perché devo bagnarmi io raga nettuno sei un bastardo vado vado ma tu che cazzo di gambe hai allunga la gamba allungale anche questo allungale un po' no 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 dai porca troia le armi che usano munizioni pesanti fanno danni da colpi alla testa maggiori too cristo dio cristo dio cristo dio cristo dio cristo dio cristo dio pari dee io io ciao bello grazie per la sabbettazza 15 mesi aio merda intanto voglio approfittarne mentre soffio il naso per ringraziare anche tutti gli amici di chip chop e di twitch che stanno guardando la live ciao ragazzi come va piccolo perché così io posso mettere il telefono così e così e non crascia la live perché purtroppo streamlabs come applicazione fa crashare la live se il giroscopio è attivato potete usare comunque le dita e raga sono praticamente arrivati a peschiera 18 12 chilometri esce a peschiera e poi si è ammagato e fin dirò match da elite in su con gli unreal ok buongiorno chris io 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 ciao bello tre mesi merda tanti auguri tanti auguri merda quando fa così è sempre un po sus la cosa e